Pozzo in mia compagnia Oggi giochiamo in deathmatch a squadre Con... Non so chi erano utilizzare Non me ne ricordo più le classi che ho Comunque credo l'M8 E nel party Nel party c'è un mio amico iFlandless che è anche un canale youtube Che vi metterò in descrizione Però ora non l'ho sentita Perché Ho messo tipo L'impostazione che non si sente Quindi usiamo l'M8 No! Ecco subito il cieco che ci ara E devo sclerare Comunque raga volevo informarvi Che addio Prima kill Che porterò altri commenti Addio caro Sul canale Di partite fighissime Come per esempio Ho fatto la partita con Gabbo E con Velox Adesso non vi spoilerò più niente Solo questo che voglio dire E adesso Stiamo andando al loro spawn Eccolo Il camperino Grazie alleato che mi ha salvato il culo Se no morivo Ecco Oh ma gli spawn cambiano Ogni due secondi E muoio Facciamo 1-1 Quindi Anzi 1-2 Eccezionale risultato Altra cosa che Oddio però Altra cosa che voglio dire Questo Iflonsless Che è nel party Mi ha appena fatto Il banner Quindi Proprio Eccezionale E Lonsless E Dai Questo non muore Ok Prestigio 3 Livello 29 Quindi vedete anche il banner Su mio canale Ditemi se vi piace Oddio Oddio che azione Ho fatto Bisogna salvare Mi sta facendo ridere Dai siamo in serie raga No 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 il telefono Perché il telefono Aspetta raga Devo rispondere Madonna io devo sclerare I call center Che chiamano a quest'ora Ma io Ma io perché Perché Cioè no ma il bello Che quando devo registrare Io Chiamano i call center Ma io Io non ho parole Quando devo fare un cazzo di Ma proprio quando devo Cioè non hanno Da un botto di tempo Che non chiamo Proprio ora Devono chiamare Capito Dimmi tu se Questa è Sfiga Oh Con il weevil Intanto I flanseless I flanseless Fa le doppie Con il weevil Alla testa Di headshot Muori Ah lui va per headshot Io vado per Partite random Vai preso No 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 Vai prendiamo Teniamo su sto Tempest Facciamo le pagi o stragi Preso uno No 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 C'è un botto di gente Oddio Preso un altro Preso no 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 Io scappo Eh dai Questo mi shotta col Col vesper M8 contro vesper Chi potrà mai vincere Sì tutti col vesper Vai Preso uno Dai Che sta qua Dai Lo voglio io No Me lo fotte il compagno Preso No 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 Eh dai Questo mi shotta Stavo in aria Vabbè Ah ragazzi Vabbè vedete anche Snapping in live E dopo noi Registreremo Una partita Di trick shot Quindi Speriamo di fare Un altro bel Tanto vince Vabbè E che cazzo Muoglio delle mine Tanto vince Luca Comunque Spero di Hittare anche Un altro bel trick Perché Non mi farebbe Male Oh ma che cazzo Poi raga Vi lascerò anche Il canale Di iPhone In descrizione Merita tanto Se anche lui Va a video Su code Minecraft E ha tante altre cose Su pc Che io non me ne intendo Ma guardalo Eccolo Il puttanello No Dai Scusate se non parlo Ma sono concentrato Non so parlare Sono Ignorante E dai Intanto lui fa gli edge Io faccio le fitte No scherzo Faccio un cazzo E dai Mori Ragazzi Non mi voglio dire Il risultato Che sta facendo Il flanzo Scusate se no Morite Mancosata Si gira Vai feed No scherzo Uavvi e contro Sono in serio Ecco Muoio 70 punti Dall'elstorm Oh 19 15 Prima partita Del giorno Primo risultato Oh E finisce la partita Vinciamo con 19 15 Secondi Oh And that much Il primo C'ha l'emblema XXX Con un bellissimo Emblema Che non vi voglio dire Anzi ora lo vedrete E quindi ragazzi Io spero che il video Vi sia piaciuto Come sempre Lasciate un bel mi piace E un bel commentino Che non mi fa Cioè che non mi fa Che mi fa sempre piacere E soprattutto iscrivetevi al canale Per vedere nuovi video E anzi Per la prima volta Vi voglio chiedere di lasciare 5 like 5 mi piace Per un nuovo video Vediamo un po' questa sfida Questa challenge Comunque Noi ci becchiamo in un prossimo video Bella ragazzi